Buongiorno, sono Pino Dessario, psicologo dei gruppi e consulente in facilitazione. In gestione della negatività in classe è il prossimo corso che facciamo a novembre, due lezioni di due ore in cui sviluppiamo alcuni principi concettuali di provenienza psicosociale, di provenienza di neurobiologia interpersonale, per capire la provenienza dei comportamenti e delle emozioni negative. E poi ci dedichiamo alla capacità trasformativa dell'insegnante rispetto alla classe in caso di tensioni, opposizioni, difficoltà, disagio dei ragazzi, eccetera. Per cui svilupperemo il metodo della parola chiave e parola direzionale, passi concreti, il metodo della tripletta e altre tecniche che possono essere di grande utilità proprio per la gestione delle negatività. Le negatività sono i conflitti, il malessere e gli errori, per cui sarà un corso di grande interesse e di grande valore. Grazie, buongiorno.